Questo terzo dipinto che ci accompagna a vedere la grande mostra, un'infinita bellezza, è di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che tanti di voi conoscono come l'autore del quarto stato, un dipinto divisionista e in qualche modo socialista. Ma qui vi presentiamo invece un suo grande e straordinario dipinto naturalista e simbolista. Questo dipinto intitolato Lo specchio della vita, con un sottotitolo e ciò che l'una fa, le altre fanno. Questa gregge di pecore, una dopo l'altra. Probabilmente c'è un intento simbolista nell'idea dell'essere gregari, ma dell'essere anche uniti, di essere capaci di fare un sistema di stare insieme. In lontananza un paesaggio meraviglioso, qui siamo all'interno del Roseto e tutto intorno a me vedo l'arco alpino e quindi questa mostra è ambientata in un contesto naturalistico, valorizza il paesaggio, valorizza il Piemonte, ma valorizza anche la straordinaria bellezza della natura e della cultura italiana. Vi aspettiamo!